Perché sì? Perché a modernare le proprie istituzioni per un Paese vuol dire renderle più efficienti, dare possibilità che ai problemi concreti di una comunità, dei cittadini, si possa avere tempi certi per dargli queste risposte. Se uno ha bisogno di un lavoro in una comunità, bisogna fare una legge che favorisca il lavoro. Ma se per fare questa legge che favorisca il lavoro nel 2016 occorrono più di 300 giorni, forse è il caso di ammodernarle le nostre istituzioni, di dare tempi certi, di superare un bicameralismo paritario che ha dato anche tanti alibi alla politica. In particolare perché se non realizzi i programmi per cui la gente ti elegge, la colpa è sempre di qualcun altro, perché le istituzioni non funzionano, perché le maggioranze sono litigiose, è sempre un perché c'è. Io credo che oggi più che mai ci sia bisogno di dimostrare che se si vuole rimettere a centro l'interesse dei cittadini bisogna avere anche il coraggio di rendere più efficiente quella macchina che permette di dare le risposte concrete ai cittadini. E quella macchina si chiama istituzione. Non c'è nessun attacco alla democrazia, nessun rischio di autoritarismo, ma semplicemente la possibilità di iniziare a cambiare, mettendo su quel piatto della bilancia anche gli elementi che possono essere migliorati di una riforma, perché si inizia un cambiamento, non si conclude un cambiamento.